Musica La gara dei lanci femminili Bravi con Daniele, bravissimo, bravo Daniele Partenza per la spunta 5.000 alfini che parliamo di 15.000 E prevediamo a transitare gli alfetti della Marstra A seguire Buonissimo Luca, bravo, bravo 2.000 e 3.000, questo è l'arrivo giudice, vediamo giudice Bruno, scazzatore, attento la donna, per i strani di regolarizzare, vediamo ancora un amico quelso tecnico, per gli pagati, marcia, sono le prime domeniche di questa volta, i terzi, le metri, 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 Grazie a tutti. Vicitrice della gara Cadette-Marcia è Viviana Sardori della Polisportiva. Ragazzi, gara di marcia metri mille, il terzo posto è di Daniele Bergamo dell'Atletica Rotaliana. Grazie a tutti.